5 miliardi e 80 milioni di euro, la manovra finanziaria più ricca della storia è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza di centrodestra, il voto contrario di PD, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Cittadini, Open Sinistra e FWG, ha stenuto il consigliere del gruppo misto Walter Zalucar, una finanziaria regionale che punta a sostenere settori specifici, come sottolineato dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Destinare risorse essenzialmente al sistema delle imprese per far fronte alle difficoltà dovute al caro bollette e all'energia, alle famiglie, abbiamo implementato la dote famiglia, alla transizione ecologica con una serie di investimenti relativi al fotovoltaico per le imprese, a una serie di interventi che hanno sostenuto le prologo, le associazioni, il volontariato. Nello specifico, in primis, la dote famiglia che con 5 milioni aggiuntivi per il bonus energia elettrica, con un emendamento arriva a 25 milioni, un provvedimento che, una volta calato sui diretti interessati, dovrebbe aumentare la quota per nucleo familiare da 200 a 500 euro circa. Emendamento ad hoc anche per l'abbattimento delle rette dei nidi, 30 milioni complessivi per garantirne la gratuità. Introdotto all'unanimità su proposta del consigliere Giacomelli di Fratelli d'Italia, lo sport bonus, ovvero il credito d'imposta concesso a chi effettuerà donazioni per progetti di promozione, organizzazione e valorizzazione degli impianti sportivi. Il sostegno alle imprese, 3 milioni e 7 stanziati per rifinanziare il rilancio impresa e 3 milioni e mezzo per le piccole e medie imprese del terziario attraverso il centro di assistenza tecnica. 3 milioni di euro nel triennio al voucher Turesta per incentivare i pernotamenti in regione dei residenti, 55 milioni per garantire il super sconto carburanti nel 2023, 24 per la riorganizzazione dell'ARPA e 10 per le operazioni di dragaggio, 500 mila euro per biblioteche, cinema e centri culturali per far fronte al caro energia e un milione e mezzo di euro per completare la ristrutturazione del palabigotto di Gorizia in vista di Gorizia-Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Noti i numeri della sanità con un aumento del fondo regionale di 46 milioni, del sistema sanitario regionale per oltre 63 milioni di euro, oltre ai 3 milioni in più nel sociale.